Buongiorno da Onda di Gino, apertura quest'oggi subito la politica in proiezione, in prospettiva delle elezioni provinciali, il consigliere Maurizio Proietti si candida con il presidente uscente Angelo Caruso, così la maggioranza di Palazzo San Francesco risulta divisa. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Dove aver fatto un passo indietro e in avanti per la rinuncia alla presidenza del Consiglio Comunale, Maurizio Proietti si candida per il Consiglio Provinciale. Delineata definitivamente la mia candidatura al presidente della provincia dell'Aquila, ho intrapreso una serie di interlocutori con le rappresentanze consigliari delle amministrazioni per verificare la disponibilità soprattutto nel mondo civico. Tra le varie opportunità ho ricevuto la piena disponibilità del dottor Maurizio Proietti, con i quali mi lega una vecchia amicizia maturata nella comunanza politica degli anni 2000, fa sapere il presidente della provincia uscente Angelo Caruso. La candidatura di Proietti si pone in un panorama di relazioni che egli ha conservato integre su più vasto territorio peligno alto sangro per rappresentare gli interessi delle comunità, ma soprattutto per risolvere appieno le vicende che riguardano il comune di Sulmona nel campo dell'edilizia scolastica. A lui va la mia stima e gratitudine per aver accettato questa importante sfida. Proietti potrebbe quindi incassare anche il voto dei civici per la candidatura al Consiglio Provinciale. La maggioranza riguardo risulta divisa. Si tratta di elezioni di secondo livello, in programma il prossimo 18 dicembre. E ora la situazione dell'emergenza da Covid-19. Violata la quarantena, coniugi sulmonesi in isolamento segnalati, pensate dai vicini di casa. Ancora sfide al virus, praticamente a due anni dallo scoppio dell'emergenza pandemica in atto. Sentiamo nel nostro servizio. Pur essendo in isolamento, sarebbero stati notati più volte dai vicini di casa mentre uscivano nel quartiere con il proprio cane. O peggio ancora, si mettevano alla guida, allontanandosi dall'abitazione per un breve arco temporale. Per due coniugi sulmonesi, per i quali è stato attivato il monitoraggio sanitario dopo la positività della figlia convivente, è stata inoltrata specifica segnalazione all'autorità sanitaria. A farlo sono stati vicini di casa, inquilini dello stesso palazzo condominiale, che non riescono a tollerare simili gesti. A due anni dallo scoppio dell'emergenza pandemica in atto. Stiamo passando delle giornate da incubo, poiché in diverse occasioni vengono utilizzati degli spazi comuni, tra l'altro senza dispositivi, tonano dal vicinato. Abbiamo anche segnalato informalmente il caso alle forze dell'ordine, ma non riusciamo a bloccare tale situazione che non ci rende tranquilli, perché dopo due anni non si può entrare e uscire di casa in caso di isolamento, come se nulla fosse. Sembrerebbe infatti che dopo il contatto con la figlia e l'intera famiglia sia finita in isolamento. Nel giro di pochi giorni arriva l'ennesima segnalazione di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, segnalazioni però che andrebbero depositate e ratificate nelle sedi opportune. A due anni dall'inizio dell'emergenza pandemica è cambiato anche il profilo di chi agisce spregio alle misure di prevenzione e ai protocolli vigenti, dall'insegnante positivo che ha svolto la lezione in attesa del referto all'operatore sanitario che si è recato in un punto vendita per fare la spesa. Di questo passo si rischia di abbassare drasticamente il livello di consapevolezza del rischio, con tutte le conseguenze del caso, su un sistema già carente di suo. In fondo il Covid non è venuto fuori aereo questa mattina, per cui alcuni meccanismi dovrebbero essere pressoché scontati e collaudati, ma alla luce delle numerose segnalazioni il condizionale è d'obbligo. E intanto è ripartito il sistema informatico della ASTL, sono arrivati a destinazione, quindi sono stati captati dalla piattaforma di riferimento tutti e 400 referti che fanno riferimento ai tamponi svolti nella giornata dello scorso lunedì. Gli effetti di questo fuori programma, come ampiamente anticipato dalla nostra emittente, si sono visti subito sull'andamento della curva epidemiologica, perché sono ben 35 i nuovi casi di Covid-19 in corso di tracciamento da parte del Dipartimento dei Servizi di Prevenzione ASTL. c'è un fronte che sta interessando anche la dirigenza dei Rostellati, quindi in queste ore è stata fatta richiesta anche per sospendere la gara in programma nel fine settimana per il campionato di promozione. Ci sono conferme tra le positività, la maggior parte delle quali si tratta di positività attese, però avremo modo ovviamente di fare il punto della situazione nelle prossime ore. Vediamo invece che cosa sta succedendo al centro trasfusionale dell'ospedale di Summona, dove si comincia a guarire, ma un solo medico resta in servizio. Ancora allarme, quindi, per l'organico. Respira il centro trasfusionale dell'ospedale dell'Annunziata dopo il focolaio divampato nelle scorse settimane. Risultano infatti guariti due dei tre operatori sanitari che si erano contagiati. La situazione sta quindi rientrando alla normalità dopo lo stato di allarme che si era configurato nell'ultimo periodo. Resta il problema della grave annosa carenza di personale, che allo stato attuale investe di più la componente medica del reparto. La pianta organica è composta da tre medici, tre infermieri, quattro figure tecniche. Attualmente un solo medico risulta in servizio sui tre assegnati al centro trasfusionale. E' di tutta evidenza che l'operatore in questione è chiamato a gestire un carico di lavoro notevole più delle altre figure sanitarie operanti. Una situazione non più sostenibile sul piano umano e professionale che deve essere risolta con interventi di potenziamento per mettere in condizioni tutti gli operatori di lavorare in assoluta tranquillità e sicurezza. Sollecitazioni in tal senso sono arrivate ai vertici dell'azienda sanitaria che non hanno ancora fatto fronte all'emergenza nell'emergenza, ovvero il personale carente. E ora i contributi per i danni derivanti dal sisma nel 2016. Arriva l'ultimatum per presentare la manifestazione di volontà, ovvero la richiesta del contributo. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Si possono richiedere entro il prossimo 15 dicembre i contributi per il sisma nel 2016, a ricordarlo è il comune di Sulmona. Tutti i cittadini che non hanno ancora presentato la richiesta di contributo sisma 2016 all'ufficio speciale per la ricostruzione, sono tenuti a presentare una manifestazione di volontà a richiedere contributo sisma, pena decadenza del diritto del contributo stesso. La manifestazione di volontà a presentare la richiesta di contributo va inoltrata per tutti gli edifici che hanno subito danni gravi, compresi quelli che si trovano in zona rossa, perimetrata o destinati alla delocalizzazione. Deve essere inoltrata unicamente attraverso la piattaforma telematica del commissario sisma. Può essere avanzata dai proprietari o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato nel progetto. La piattaforma calcola in automatico il costo presunto dell'intervento sulla base dei metri quadri segnalati, ma è possibile indicare un valore differente se ad esempio sono applicabili eventuali maggiorazioni del contributo. Tale valore è indicato solo ai fini statistici e ricognitivi, non pregiudica in alcun modo l'importo del contributo che sarà riconosciuto all'esito positivo dell'istruttoria sulle richieste inoltrate all'USR. Tutte le informazioni, sossidio istituzionale del comune di Sulmona. E torniamo a parlare del viale della stazione a Sulmona, messo a dura prova ancora una volta dal maltempo. Sentiamo che cosa è successo nel servizio di Chetano Trigiglio. I presidenti in viale della stazione a Sulmona lamentano l'allagamento della sede stradale in caso di pioggia, soprattutto al bivio sfascio, come dicono loro. Nei giorni scorsi la pioggia è caduta abbondante allagando il viale, in particolare il bivio della stazione, creando notevole difficoltà alle auto, ai pedoni, in particolare ciclisti e motociclisti, come possiamo vedere dalle foto che ci sono state inviate. Il problema, dicono i residenti, è che i tombini e le calitoie sono ostruiti da anni a causa delle erbacce che ormai hanno chiuso le grate impedendo all'acqua di incanalarsi e quindi l'allagamento della sede stradale. La strada è provinciale, dicono ancora i residenti, ma nessuno si preoccupa di eliminare un inconveniente che si verifica ormai da anni. Giriamo la protesta a chi di dovere. Alla riscoperta delle origini sono arrivati 7.000 euro per l'Associazione Valle Peligna che si occupa appunto degli emigrati. Il nostro servizio. Tra i progetti approvati e finanziati dal Consiglio regionale di Labruzzesi nel mondo c'è anche quello dell'Associazione Valle Peligna che riunisce gli abruzzesi emigrati in Canada presieduta da Aldoli Cristofaro. Il progetto è la ricerca della nostra terra d'origine, infatti finalizzato a rinsaldare i legami fra i figli degli emigrati, con i loro genitori, con la terra d'origine, ma soprattutto a riportare in Abruzzo quegli emigrati che non hanno avuto possibilità economiche da tanti anni, pur desiderando rivedere la loro terra, non hanno potuto esaudire questo desiderio. Il finanziamento previsto per il progetto è di 7.000 euro. Siamo soddisfatti di aver ottenuto questo contributo che conferma la validità del nostro progetto, commenta Di Cristoforo, e da tanti anni che stiamo lavorando su questo fronte con le nostre risorse e i nostri sacrifici, facendo affidamento sul generoso apporto dei soci che si mettono a disposizione per tutte le iniziative portate avanti dall'Associazione Valle Peligna. Ogni anno, grazie all'Associazione, molte persone possono tornare in Italia, ma soprattutto importante il progetto diventato ormai consuetudine che porta in Canada i sindaci dei comuni Peligni per incontrare concittadini che per ragioni di salute economici non possono tornare nel loro paese natio. Un'occasione per dialogare e respirare il profumo della propria terra. Proprio grazie all'attività svolta in tutti questi anni dall'Associazione, il Presidente di Cristoforo è stato insignito dell'alta onorificenza di commentatore della Repubblica e riceverà questo importantissimo attestato il prossimo 29 novembre, direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In 42 al concorso dedicato a Fabrizia Di Lorenzo, la giovane sumonese vittima dell'attentato di Berlino. Sono stati 42 gli studenti provenienti da ogni provincia d'Abruzzo che hanno partecipato il 15 novembre scorso al concorso intitolato a Fabrizia Di Lorenzo, giunto alla quarta edizione con un crescente consenso. La prova scritta si è svolta in modalità remoto per contrastare il contagio da Covid-19. Il concorso è rivolto agli studenti che frequentano gli ultimi tre anni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione Abruzzo. L'organizzazione del concorso è a cura dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che si avvale della consulenza del Comitato insieme a Fabrizia Di Lorenzo e della collaborazione con l'Istituto Vico di Sulmona, facente parte dell'Istituto di istruzione superiore Ovidio di Sulmona. La premiazione avverrà il prossimo 4 dicembre alle 10.30 nel liceo Vico nel rispetto delle norme di contagio. Al termine della cerimonia sarà inaugurato il monumento l'albero dell'accoglienza dell'artista Alessandro Chaitani, dedicato proprio a Fabrizia di Lorenzo, realizzato in bronzo dalla fonderia Marinelli di Agnone. La scultura rappresenta due mani che si incrociano e insieme sorreggono il mondo, simbolo di unione e fraternità tra tutti gli uomini. I film in programmazione alla Monti Sala Ejoland di Corfinio, Io sono Babbo Natale, due proiezioni 18, 21 e 10, poi Zlatan, 18 e 10, 21 e 10 e ancora Incanto, 18, 21 e 10, mentre al cinema Pacifico di Sulmona, Promises, con due proiezioni 18 e 10 e 21 e 10. Prima di chiudere l'aggiornamento su fronte dell'emergenza Covid-19 perché proprio in questi minuti è la triste notizia, un'altra vittima sul registro Covid, si tratta di un'anziana di 91 anni, Francesca Biffi, che è decenuta questa mattina nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove era stata ricoverata in seguito alle conseguenze del contagio da Covid-19 essendo un soggetto fragile ovviamente in attesa della terza dose. E' la 97esima vittima dall'inizio dell'emergenza pandemica in atto, la 79esima che invece finisce sul registro nero della Valle Peligna. I nuovi casi nel territorio Peligno-Sangrino sono 35 e quindi nel pomeriggio tutti gli aggiornamenti. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per essere aggiornati su tutte le notizie. Ed è davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Tg che come vi consueva torna questa sera intorno alle 20 circa. A tutti buon pomeriggio. Grazie.